Io da piccolo sognavo di fare l'astronauta e tu invece oggi ti rivolgo questo appello come volontario di Mission Bambini perché nel mondo e anche in Italia ci sono tanti bambini che aspettano anche il tuo aiuto per poter portare avanti i loro sogni. Ciò che ti chiede è quello di donare il tuo 5 per 1000 per Mission Bambini. Grazie. Sposta. No, stai lì. Ok, facili.